Arezzo tra le città più calde d'Italia con un picco di 36 gradi nelle ultime ore. Per fortuna si tratta di un caldo secco perché il tasso di umidità è intorno al 47%, come spiegano gli esperti del sito Arezzo Meteo dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie. Per tutto il fine settimana le temperature saranno calde, superando sempre i 30 gradi. Tendenza che si avrà per tutta la prima parte della prossima settimana, quando ci saranno ancora condizioni di alta pressione con caldo moderato e temperature massime senza eccessi, anche se saranno comunque intorno ai 30 gradi. I consigli anticaldo sono sempre gli stessi. Non svolgere attività fisica dalle 11 alle 18, non uscire nelle ore più calde o, se lo si deve fare, coprirsi con un cappello o con degli occhiali, mantenersi ben idratati e privilegiare frutta e verdura, munirsi di crema solare ad alto fattore protettivo, chiudere le finestre esposte al sole, regolare l'aria condizionata tra i 25 e i 27 gradi per evitare shock termici.